Ciao, sono Daniele. Volevo dare un piccolo aggiornamento così molto informale tramite cellulare riguardo a dei giochi che ho giocato in quest'ultima sessione. Sono stato a un negozio chiamato Well Played che si trova a Dubendorf, proprio vicino alla stazione, tenuto da un Benjamin Turin, un ragazzo molto simpatico che ha una grande selezione di giochi in inglese ed è raro qua vicino Zurico, dove si trovano soprattutto giochi in tedesco ovviamente. Ha un ottimo negozio, un piccolo negozio che però ha anche spazio per giocare e organizza eventi, ha degli orari molto adatti a chi lavora, quindi è aperto anche la sera fino a tardi quando ci sono questi eventi, è aperto a volte, spesso, anche la domenica, organizza a tornechi qualche gioco di miniatura nel quale io non sono poi così bravo tipo X-Wing eccetera, però sono passato una volta già e mi sono trovato bene con un ragazzo che sta spesso lì, non so se lavori per lui o se è soltanto un amico, comunque sembra che viva lì. Abbiamo giocato insieme a Raptor, è un gioco divertente, non so se lo prenderei perché ne ho altri giochi simili e una collezione che non voglio ingrandire troppo, lo spazio è quel che è, però mi sono divertito parecchio con lui a giocare a Raptor e uscendo ho comprato un gioco ed è per questo che funziona un negozio così, è moderno diciamo, un tipo di negozio così, comprando, sono uscito poi comprando un altro gioco, Arkham Horror The Car Game, ho una recensione per questo, metterò un link in questo video magari, così potete andarla a vedere se siete interessati, Arkham Horror The Car Game. Però sono tornato ieri solo per giocare, volevo un pochino sbagarmi, sta una settimana dura al lavoro e quindi l'atmosfera era molto buona, devo dire che sono stato molto sorpreso, c'era molta più gente che una volta precedente, i tavoli erano pieni, la gente voleva giocare, c'erano due ragazzi italiani che volevano imparare il Netrunner. Io mi sono seduto invece al tavolo con altri tre, che erano tedeschi e un altro svizzero di Ginevra, quindi di Ginevra, quindi parlava francese, parlavano tutti inglesi però al tavolo. E ci siamo messi a giocare un paio di giochi, uno è Cthulhu Reals, che in realtà anche dal nome si capisce, proprio una scopiazzatura, almeno di base, di Star Reals, che a sua volta credo che sia una scopiazzatura più o meno di Ascension, una semplificazione, un altro gioco di questi deck building tipo Dominion, però con qualche variazione sulla stile di Dominion. E mi sono divertito, sono arrivato adesso su quattro, ma non staccato di molto. Ma quello che mi ha divertito era sicuramente il tipo di gioco che apprezzo molto, mi piace anche Star Reals, l'ho giocato soltanto online, ma mi sono divertito. L'iconografia è molto pesante su queste carte, la grafica è carina, ma l'iconografia, ci sono piccoli simboli che è difficile, almeno in una prima partita, comprendere. A volte quando metti tutte le carte che giochi in un deck builder ne giochi parecchi in un turno, no? Quando metti tutte le carte, ok, la sequenza adesso, quindi scarto questa, ripresco un'altra. A volte il turno diventava un po' così, lento, però in quattro giocatori siamo al limite quindi della lentezza di quanto dura il gioco, però una volta finito il mazzo di carte disponibili il gioco finisce comunque, quindi il limite diciamo che è stato quello. Se no si gioca finché uno dei partecipanti non perde tutti i punti vita, credo. Comunque sia. Abbiamo giocato poi invece un altro gioco, Bloodborne, di Eric Lang, della Cool Mini or Not. Ne avevo sentito parlare parecchio questo gioco, sono stato contento finalmente di giocarlo, anche questo degli dadi che esplodono, tipo Archedia Quest, che se viene il dato con l'asterisco allora il mostro fa ancora più danni, eccetera. È un gioco abbastanza ripetitivo, ho vinto questo gioco qui, lo dico, ho vinto. È abbastanza ripetitivo il gioco, ma divertente. La grafica è basata sul videogioco al quale corrisponde questo gioco da tavolo, Bloodborne, ed è quindi molto pesante, con scura, eccetera, però fatta bene, insomma. La meccanica del gioco è in pratica cercare di collezionare questi punti sangue, questi token di sangue, dai mostri, attaccandoli con le armi che siano a propria disposizione nel mazzo. Si possono poi pian piano, come in un deck builder, comprarne di più di queste armi. Non è proprio un deck builder, però. E comunque, quando si fanno poi dei danni a questi mostri, si guadagnano questi punti, che però sono temporanei. Se si muore, e si muore spesso in questo gioco, si perdono quei punti. Quindi ogni tanto bisogna passare un turno a collezionare i punti ottenuti, a metterli in banca, in modo da non perderli quando si muore, perché prima o poi morirai di nuovo. E si cerca quindi di ottenere più punti collezionati degli altri, ci sono anche altri modi per fare punti, però per semplificare molte cose, uccidendo i mostri. E alla fine del gioco, quando si uccide l'ultimo mostro, si vede chi ha collezionato più punti di sangue, chi ha collezionato più punti di trofei dei mostri uccisi, e si vede chi ha vinto. In quel caso io. Stava molto divertente, è passata una bella serata, io spero di poter ripetere successivamente anche un'altra esperienza così, e consiglio a chiunque abbia un minimo di tempo di partecipare a qualche gruppo di questo genere, perché l'esperienza è completamente diversa, ci si immerge. Bisogna essere però fortunati, non sempre io mi sono trovato bene con le persone che ci sono, e bisogna essere fortunati a capitare una serata, anche trovarsi bene con le persone che frequentano il gruppo, conoscersi, incontrare persone aperte, incontrare persone che vogliono giocare e non soltanto vincere, incontrare persone che sono aperte e anche giocare a altri giochi che quelli che vogliono assolutamente loro, e trovare un buon gruppo, no? Non è sempre facile. Va bene, finisce qui l'update qui, eppure è strappo lungo mi sa. Va bene, ciao, ciao.